C'è un esercizio che voi fate, che io amo tantissimo, che è quello che saltate e fate con le gambe così. Come si chiama quell'esercizio? L'antresia sisse. Ah, l'antresia sisse. Antresia sisse. L'antresia sisse. Così. Posso vederlo un attimo? Ok, fatelo qua. Allora, fammi da... Adesso lo farò anch'io. Allora, aspettate la mia fiducia, scusi. Allora, mi fiducia, lo farò. Allora, si parte in quarta. Cosa è quarta? Quinta. Dicevi che era quarta, tanto non lo sa nessuno. Non è che mi faccio. Allora, cosa bisogna fare? Bisogna fare... Devo saltare chiaramente e poi devo fare... Apro, chiudo. Ok, pronto, sono a posto. Però non ho proprio la tua elevazione, diciamo che più antresia sisse, io vado più di antresia sisse, mi piace un po' di più. Però facciamo così. Tu adesso mi provi a prendere da dietro. Scusate. Ma mi devo prendere da dietro perché lui c'ha una forza. Vai, allora, dove ne fia? Affonda nel budino, capito? È facile la presa. Oh, mi raccomando che c'è una stagione da portare. Allora, avanti, dietro, avanti. Scusate. No, aspetta, dico io. A tre. Uno, due, tre. Ma adesso devi provare tu. T'ho dato una botta nello stico, se è il tuo rumore. Facciamo l'ultima posizione, l'ultima posizione. Un altro, quello bello che fate così, che girate, come si chiama? Vai. Ok. Allora, no, quello con la gamba tesa che è più facile, che ti ho visto fare una volta. Un incrocio e... Perfetto, questo lo faccio bene. Allora, eccoci. Come si chiama questo? L'Assemblea Tournante. Ok, l'Assemblea Tournante. Voilà. Allora, come si parte? Si parte così, quindi su, su, uno, due, tre, lancio e giro e si chiude con... La passeggiata. Vai, fammelo vedere e poi lo facciamo insieme. Poi chiudiamo, giuro. Abbiamo chiuso. Una pernita di Bonacol. Ok, che ti faccio male. Mister Cambio. Ci siamo? Allora, vai. Lui è come idolo Roberto Bolle e tu sicuramente diventerai un etual. Io invece sono un etualet. Solo proprio... Così, scusate, ma lo faccio benissimo. No, veramente, signori, un grande, grande professionista. Guardate che fisico che c'ha. Mirko Simeone. Grazie, Mirko. E lui ballante e contemporaneo. Stasera abbiamo dato una dimostrazione di danza a classe. Grazie. 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 Grazie.